Ciao a tutti, sono Fox e benvenuti e bentornati in questa nuova Draft Challenge Oggi, come al solito, nelle mie Draft Challenge c'è una penitenza Andremo a prendere i giocatori con meno tiro che ci capiteranno E questo è il via della mia cintillissima madre Se lo riconoscete bene Se lo riconoscete bene Se lo riconoscete è tornato il limone ma non col peperoncino che mi piaceva Solo che era devastante Limone e zenzero Io odio lo zenzero, l'ho mangiato una volta e sono stato quasi male Quindi ho paura di sapere come andrà adesso Visto che ne prenderemo tante, 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 tante Ho anche finito il FIFA Pulse, devo usare i crediti Anzi dopo, se usciamo praticamente subito vi apri un pacchetto da 15.000 Visto che ci sono solo quello Non mi trovo bene con le due punte ma l'unico modulo con cui posso far meno danni è il 4-4-2 in linea Cominciamo già bene Non so se ve lo velocizzerò o se me lo giocherò tranquillamente Dai Nelly Anche il più lento Quello con meno passaggio Non è quello con meno dribbling Non è quello con meno difesa Anzi quello che ne ha di più Ma è quello con meno fisico La porta è di sicuro Sì, lui Tanto non abbiamo molto da decidere No, no, no Questo non me lo puoi fare C'è 81, 82, 83 Fabregas con 78 No, eh Andiamo sull'esterno destro 81, 82, 74 William Non è male Doppia intesa con Fabregas Nico Gaetano Oh, oh Sta uscendo una squadra con un'intesa non troppo schifosa McCormack non è il mio giocatore preferito Però va bene lo stesso Cioè non è neanche nella Premier Perché essere visto fallito Dimmi di sì Dimmi di sì Dimmi di sì Vani record Dove vieni nella mia squadra adesso nella mia Pezzo di merda Grazie a tutti Qua Non solo perché fa più intesa Ma metto raggi perché è un cazzo di fenomeno Uno Eh no Proprio una squadra del cazzo così Dove il migliore tiratore secondo me è Vardio 81 Ma di sicuro Non è Carvacal Va avanti in questo sicilio l'allenatore Vediamo quello che ci tira più sull'intesa E ci prendiamo Puccettino noi E ce lo prendiamo Puccettino Guarda qua un draft da Cento Sessanta Non male Non male Abbiamo un po' di giocatori della Liga Un po' della Premier Abbiamo vinto un draft Madonna Lo scorso draft Quello che mi ha fatto soffrire tanto E vabbè andiamo a giocarci Un draft con sta squadra di merda Cioè Io ho sei fette di limone e zenzero Spero che bastino e avanzino Ma vi immaginate fare un draft Senza subire gol posso buttare via sto merda Da quando vela è un attaccante Comunque c'ha San Jose Che può aiutare noi No siamo usciti No siamo usciti Malaccio dalla difesa No bail No bail No bail Schmeichel Amo anche te Prima o poi Amerò tutti anche te Mark Bartra Valencia che no mi sei sempre stato sul cazzo Se devo essere sincero Dobbiamo fare Le nostre solite partite difensive Attenzione a Vardy Trova William Corri William Bastardo Neymar Ancora Vardy Vardy Trova la botta Vardy E' lui E' lui il record breaker E' lui il fenomeno Jimmy Vardy Jimmy Vardy 1 a 0 E' così che si passa in vantaggio Dobbiamo cavarcela Che cosa ha fatto Vardy Dove l'ha messa Ha tolto le ragnatele Come ha fatto Chiellini All'ultima di campionato Non mi fare queste cose Tiago Motta Che dopo mi deprimo anche tu Tiago Silva Cioè è proprio E' proprio il nome che porta a sfiga Quitta 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 Vai Di Maria Fermati Ancora tu Di Maria Perché non ho tirato Ancora tu Di Maria Appoggiala dai Vai Tiago Motta Prova la botta da fuori E c'è Vardy Fuori gioco Non ho capito cos'è successo Perché ho chiuso gli occhi Nel momento in cui Ho tirato Però a quanto pare Avevo segnato in fuorigioco Ma avevo segnato No Vitolo No Sì Schmeichel Sì Schmeichel Tieni botta Gaetan Tieni botta Non far passarlo Non far passarlo Viva l'Italiano Viva l'Italiano Grande Nico Via la palla È finito il primo tempo Vamos E tu Zenzero Sei ancora lì Merda Ora fra Enrico La sbagliata Tiago Motta Non giocare così all'Europeo Vai Gaetan Fermati E rientra Ancora tu Vai Nico Vai Nico Insisti Nico Gaetan Oh Black La palla è buona Vai Vardy Insistiamo Ancora Nico Nico Gaetan Va da Tiago Motta Che la prolunga A Vardy Posizione regolare Vardy Che tiro è William Bravo William Poi Vardy 1-2 Dagli la Fabregas Bravissimo Vai Vardy Ha tirato una laggata Pazzesca Jamie Vardy La fortuna è dalla nostra parte Ci è capitato Jamie E lo stiamo sfruttando al meglio Con il suo 81 di tiro È quello Con la maggior precisione Potenza Quello con cui si valuta il tiro Della nostra squadra 70s minuto Mentre io bevo 2-5 Oh Si è affermato Però William Vede di nuovo Jamie Vardy È finito E passiamo al primo turno 2-0 Volevate Che mangiassi Limone e zenzero A merda A merda Vediamo chi cazzo C'ha questo Porca puttana C'è c'hai C'hai James Rodriguez No No Non la prenderà mai Non la prenderà mai Cos'è Si stavano Inciucciando In una maniera incredibile Laporte Ti adoro Che intervento hai fatto Hai rischiato tantissimo Perché ti avrei inculato io Dopo negli spogliatoi Hai visto Chi è? Tiago Motta Perché è proprio Tiago Motta Che è lento Come le capre Buona Per Di Maria Bomba da lì Di Maria Se Bardi ci fosse andato E grande Raggi L'hai tenuto lì L'hai tenuto lì Grande Laporte C'è la sovrapposizione di Raggi Corri Raggi So che non puoi farcela Ma corri L'ha messa bene L'ha messa bene Non ci è arrivato Vai Nico Dalla in profondità Questa è bellissima Bellissima di Maria E' passato Ha sbagliato No Fabregas Non sbagliarmi Queste cose Avete fatto passare Varane Tiago Silva Bravino Però ce n'è Imar lì Che sta per tirare Raggi Vai Carvacal Con 43 di tiro Ha centrato la porta Che tiri da palla Vardi Vai Fabregas Mamma mia Che i gol Sull'asse Premier League Vardi Fabregas Bastano due minuti A questi due giocatori Per sbloccarla Uno A zero Mamma mia Bravissimo Tiago Motta In mezzo E' buona per Jamie 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 cosa ha preso il portiere Qua ci infilano Schmeichel Incredibile Ti amo Che parata hai fatto Vardi E' passato E' passato E' passato E' qualche vado Palo Quanto fanno schifo Sti contropiedi Raggi Fabregas Qua da una gran palla Di Maria Resisti Grande Di Maria Grande Di Ma Rio Rio Non è entrata Non ci voglio credere Fabregas Mettila bene L'hai messa bene Gaetan 2 a zero Anche in questa partita Incredibile Incredibile ragazzi 2 a zero Mamma mia Maronna Sarei Vede dall'altra parte Di Maria Lo serve con una gran palla Vai di Maria Vai di Maria Puoi segnare Puoi segnare Non ci credo Vardi Hai ostacolato L'avversario Che stava andando A mignotte Rabbiose Ed è finita qua Ragazzi Questo episodio È finito Senza che io Mangiassi Quella merda Ne sono molto felice Quindi adesso Dobbiamo aspettare Il prossimo episodio Che sarà il secondo Due vittorie Per 2 a zero Quanto sono felice Se il video vi è piaciuto Lasciate mi piace Commentate Iscrivetevi Mettete mi piace Alla pagina facebook Qua sotto in descrizione Ci vediamo Poi subito Ciao Ciao